gentili telespettatori buona giornata ieri 16 dicembre è stato il picco più alto dei contagi di quest'anno mai così alti ma a questo punto il natale è a rischio i dati che provengono dagli ospedali sono in continuo aumento ci dicono che no il natale non ci sono problemi assolutamente ma è vero o no ma intanto vediamo il bollettino di giovedì 16 dicembre i modelli statistico matematici di dieci giorni fa dicevano che per natale si sarebbe arrivati a 30.000 contagi al giorno da quello che si vede probabilmente si supereranno si supereranno questi questi numeri perché se il 16 dicembre si arriva a 26.109 contagiati attenzione che la variante omicron dicono che in italia poco presente lo 0,2 per cento dei contagiati quindi questi numeri sono dovuti alla variante delta non alla variante omicron se dovesse prendere piede anche la variante omicron arriveremmo come la gran bretagna dove la gran bretagna ha avuto un record ieri di 90.000 casi il tasso di positività è stato rilevato al 3,6 per cento che cosa vuol dire vuol dire questo da non confondere il tasso di positività con l'RT l'RT è un indice che indica se il contagio è in espansione o in retrocessione anche il tasso di positività ma sono due cose differenti il tasso di positività è quante persone sono trovate sono sui tamponi fatti sono stati fatti 718.281 tamponi che sono tantissimi sono delle cifre tre quarti di milione in un giorno solo di tamponi quindi all'italia si tampona dalla mattina alla sera ecco con 718.281 tamponi sono stati trovati 26.109 contagiati che quel 26.109 è il 3,6 per cento dei tamponi fatti questo è il tasso di positività che è uguale a quello di ieri da non confondere con l'RT l'RT indica ad esempio con l'RT 2 significa che un contagiato ne contagia altri due con l'RT 0,5 ad esempio significa che un contagiato ne contagia mezzo quindi con l'RT inferiore all'1 significa che la malattia è in regressione con l'RT superiore a 1 significa che la malattia è in espansione l'RT attuale è 1,12 ecco nonostante i casi di covid continuano ad essere ritoccati verso l'alto la situazione del sistema sanitario attualmente è gestibile con la pressione che però è in crescita oggi il saldo dei ricoverati nei reparti covid è più 29 attualmente in italia le persone ricoverate per covid in ospedale sono 7338 in medicina generale diciamo così mentre quelli in terapia intensiva sono più 47 e hanno un totale di 917 a fronte di 101 nuovi ingressi stando alla rilevazione di gimme basata sul periodo che va dall'otto al 14 dicembre in una settimana sono cresciuti di circa il 18 per cento i nuovi casi non sono dei migliori anche i dati relativi agli ospedali più 17,9 per cento di posti letti occupati in area medica e più 11,2 per cento in terapia intensiva con il natale ormai alle porte la speranza è che l'italia regga l'urto e torni a far calare tutti gli indicatori che potrebbero costringere larghe parti del territorio nazionale a conoscere nuovamente le restrizioni di zona gialla arancione e ci sono già parecchi comuni in italia che in pochi lo dicono che sono in zona rossa nella provincia autonoma di bolzano ce ne sono parecchi di comuni in zona rossa e in sicilia anche lì ci sono parecchi comuni che sono in zona in zona rossa intanto ad esempio sileri vede i casi che aumentano a dismisura e nella trasmissione dritto rovescio c'è il classico il solito scontro tra virologi professori no vax sì vax forse vax e come abbiamo detto sempre quello che importa alle televisioni è l'audience la litigata è benvenuta e anzi se dovete litigarlo fatelo anche pesantemente perché più litigate e più gli audience l'audience sale più la televisione guadagna e il conduttore avrà un contratto poi più alto siamo nella puntata proprio di ieri sera 16 dicembre dritto rovescio su rete 4 e a quel punto si scontrano sul natale aperto e uno dice io credo che sarà aperto ma credo anche che il numero di casi di covid aumenterà a dismisura e la previsione di sileri che probabilmente è quella corretta dovremmo capire se questo si concretezzerà come un aumento dei positivi o come positivi che vanno in ospedale dice l'esponente del governo di mario draghi al momento vanno in ospedale prevalentemente i non vaccinati secondariamente quelli che sono stati vaccinati molto tempo fa e ancora meno quelli che con doppia o tripla dose riassume sileri e così si scatena il dibattito i principali responsabili quindi sono i novax e così pare evidente che la resistenza dei novax e dal punto di vista sociale perniciosa dice l'ex corrispondente rai da londra antonio caprarica perché hanno inserito nella nostra società un fattore di tensione e di aggressività di cui non se ne sentiva la necessità siamo partiti dalle enunciazioni contro il vaccino siamo passati a accuse verbali scontri fisici il conduttore radiofonico della zanzara giuseppe cruciani sbuffa e si agita poi prende la parola c'è una balla che l'aumento dei contagi è dovuto ai novax lo ha detto anche sileri e colpa anche dei vaccinati insomma la solita la solita la solita diatriba è colpa tua è colpa vostra è colpa nostra è colpa di quegli altri e questo piace piace all'italiano medio che si guarda queste trasmissioni con litigate e non cambia canale perché l'importante è non cambiare canale perché poi arrivano le pubblicità tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant tutti, ci vediamo al prossimo video, se volete, tra una ventina di minuti, spiace, e ricordatevi che poi c'è anche Tele Italia, seconda rete sempre su YouTube, sono sempre io, sempre un mio canale, video di politica ma anche di fai da te. Arrivederci a tutti e grazie.